Giro di vite contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in città e non solo. Resta infatti sempre alta l'attenzione dei carabinieri che nell'ultima settimana, nel corso dei numerosi servizi volti al contrasto dello smercio di droga, hanno arrestato quattro persone, due i pusher finiti in manette nel capoluogo. Il primo arresto è avvenuto in zona Porta Crucifera, dove i militari del nucleo investigativo hanno sorpreso un operaio tunisino di 40 anni, residente nel senese con precedenti di polizia che nascondeva addosso circa 3 grammi di cocaina ed altri 5 di eroina. I militari della stazione di Arezzo invece hanno arrestato nella notte di venerdì scorso un 23enne clandestino del Gambia pregiudicato e senza fissa dimora, sorpreso in zona stazione con addosso 50 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate. A Cortona invece finito in manette sempre nei pressi della stazione ferroviaria, un 24enne italiano residente nel Cortonese. I militari, dopo aver osservato i suoi movimenti, lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di circa 4 grammi di hashish, 2 di cocaina e 2 di marijuana, tutto già suddiviso in dosi. A Fogliano della Chiana, infine, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cortona hanno sorpreso un 61enne di Perugia con oltre 41 involucri contenenti, circa 170 grammi di marijuana nascosti sotto il sedile del passeggero. Anche per lui sono scattate ovviamente le manette.